Questi sono 5 funghi e statini in un'unica covata che ha trovato la fungaia, la fungaia, la bruna oltretta matta, eccola lì, una dichiarazione che fortuna, però no perché sei andata dove? Nel tuo? Nel mio posto, adesso è partita di volata, voglio andare lì a vedere e andando lì a vedere ci ha trovato 5 funghi belli, belli, prendene un po' una alla volta, due alla volta, vai. Quando poi tu le tiri su, insomma, non è che... No, lasciali lì. No, no, però quando le vedi in terra... Vai via, 3, 4, 4 e 5. E 5, dove l'ha messa la figura? Ecco lì, ok, brava, ok.